Buonasera, siamo a Senigallia e siamo in compagnia di Anna Fata, una psicologa olistica che ha avviato delle iniziative interessantissime sulle quali adesso ci illustrerà dettagliatamente. Allora, innanzitutto, cos'è una psicologa olistica? Una psicologa olistica è appunto una lettura interpretativa, uno strumento che permette di andare oltre se stessi. Allora, ciascuno di noi è l'unione di tre elementi fondamentali dove la ripartizione comunque è semplicemente formale, cioè in realtà non esiste, in realtà siamo un tutt'uno, cioè un'unione di mente, corpo e spirito. La psicologia olistica permette proprio un lavoro integrato su questi tre aspetti, un lavoro sulla mente, un lavoro sul corpo e un lavoro sullo spirito, con strumenti, con tecniche differenti proprio. Per esempio, il nostro metodo, che è il metodo Armonia Benessere, ha in suo utilizzo alcuni strumenti specifici, quello della psicologia positiva, quello della psicoanalisi, dell'analisi immaginativa, l'analisi dei sogni, la meditazione, che poi in qualche modo all'inizio è una meditazione guidata, quindi in qualche modo avvia a destra, orienta, accompagna la persona per arrivare alla meditazione silenziosa, la meditazione zen che poi sfocia nella contemplazione. Poi il lavoro tramite i fiori di Bach, il lavoro tramite l'arte terapia, quindi l'espressione tramite il disegno, l'inconscio che in qualche modo fluisce, e l'obiettivo finale è quello di conoscere se stessi, comprendere se stessi, accettare se stessi, andare oltre se stessi. Ecco, quindi la conoscenza, il passaggio dal sé, scritto con la S minuscola, al sé con la S maiuscola, il trascendente, insomma. Guardi, mi quando parli, perché ti parli con lui, ma poi la fine... Hai ragione, è una mia distorsione, è vero, sono sempre... Allora, hai una notevole produzione letteraria su questo argomento, e ho visto dai titoli di vari libri questo legame con lo zen giapponese. Ci puoi spiegare meglio questa cosa? Certo, sicuramente. Allora, nella mia esperienza personale quello che ho notato è che sia le filosofie, le tradizioni religiose occidentali, orientali, in qualche modo dicono le stesse cose, però con parole diverse. Ora, il fatto di cercare di comprendere, di avvicinarsi a queste filosofie con uno sguardo aperto, senza giudizio, è quello che ci permette di comprendere questo messaggio sottostante, cioè quello che c'è al di là delle parole, oltre le parole, cioè le parole in qualche modo ci dividono. Perché? Perché ciascuno di noi dà un significato differente a queste parole. Spesso, appunto, è proprio questa incomprensione tra di noi che in qualche modo crea poi dei conflitti. Ecco, allora, noi con questo metodo abbiamo cercato proprio di mettere a confronto, di notare i punti in comune, le confluenze e appunto l'utilità dei vari strumenti che queste tecniche propongono per, ancora una volta, conoscere se stessi e andare oltre se stessi. L'obiettivo è sempre questo. Quindi il trascendere se, l'andare al di là dell'ego e approdare verso quello che la filosofia orientale chiama amore con la maiuscola. Ecco, si fanno le passevanti in tal senso o c'è ancora un'atmosfera di chiusura da parte della nostra cultura o della cultura orientale in tal senso? Sicuramente. Allora, se dobbiamo parlare della istituzione, per esempio l'istituzione cattolica, nel senso che, allora, viviamo in un paese dove la religione di Stato è il cattolicesimo, quindi non si fugge. Se facciamo riferimento a questa istituzione, beh, è chiaro che in qualche modo, come tutte le istituzioni, deve proteggere i suoi confini. Quindi con regole, norme, dogmi, riti, qualcosa sempre di molto preciso, molto istituzionalizzato. Quindi in questo senso è chiaro che la chiusura è notevole. Però, se in qualche modo ci si avvicina in punta di piedi e si cerca il confronto con la singola persona, ecco che allora di tanto in tanto accade proprio questo tipo di incontro. Cioè ci sono veramente delle persone, dei religiosi, che manifestano questa apertura, questa capacità, questa disponibilità ad ascoltare. Questo è fondamentale, ad ascoltare, a accogliere, a confrontarsi. Ed è proprio qui che nasce veramente l'incontro. Quando l'altro proprio si mette a nudo come essere umano, al di là dell'essere rappresentante di una certa corrente filosofica, religiosa, istituzionale o altro. Quando si pone proprio nell'ottica dell'essere se stesso, del portare la propria umanità. Allora quando finalmente due individui si incontrano e si pongono proprio sullo stesso piano, perché di fatto al di là appunto delle filosofie, delle ideologie, delle linee di pensiero o delle pratiche coltivate, alla fin fine siamo tutti sullo stesso piano. Ecco che lì avviene veramente l'incontro e lo scambio. So che sei impegnata attivamente nella divulgazione, diciamo, di questo incontro filosofico. Anche con corsi di divulgazione, divulgativi, ce ne puoi parlare un po' meglio? Sicuramente. Allora uno dei progetti grossi appunto che ci vede da quest'anno in poi, già dal gennaio, quando l'abbiamo inaugurata, è la Scuola di Meditazione e Spiritualità. L'abbiamo inaugurata qui in Senigallia e all'interno di questa scuola appunto confluiscono queste due tradizioni grosse. Quella del cattolicesimo, rappresentata come punto di riferimento da, per esempio, un priore dell'erimo di Montegiove e anche di una monaca al suo interno, che appunto forniscono proprio il loro contributo, la loro esperienza, la loro riflessione, la loro chiave, la loro lettura interpretativa. Ci sono persone anche del mondo appunto orientale, quindi della cultura zen, che appunto portano la loro esperienza, quindi il loro modo di vivere questo tipo di disposizione interiore, perché prima di tutto, prima che come pratica, prima che come fare, è una disposizione interiore, un atteggiamento interiore, cioè meditazione è uno stato dell'essere prima ancora che del fare. Ci sono professionisti anche, come dire, della vita quotidiana, per esempio c'è anche un commercialista, perché? Perché un nostro punto importante, su cui facciamo sempre tanto riferimento, è che queste pratiche devono poter essere declinate nella vita quotidiana, quindi fuori dai contesti protetti, fuori dagli erimi, fuori dai luoghi dove si fanno queste meditazioni, questi ritiri. Perché? Perché, come detto, è una disposizione interiore, quindi come tale, in qualche modo, si deve poter declinare ovunque, in qualsiasi contesto, indipendentemente da quello che si fa, da quello che si vive, dal fatto che si sta da soli, che si ha famiglia, oppure appunto che si condivide la propria esistenza, quindi in ogni contesto, come se fosse una sorta di luce interiore, che a quel punto confluisce e affluisce verso l'esterno, e che si manifesta ovunque, in ogni contesto, e fluisce quindi anche nel fare. Quindi, immagino che questo è l'argomento del tuo ultimo libro, Vivere e lavorare meglio. Esatto, non a caso appunto è stato un libro che è stato pubblicato dall'edizione Paoline, quindi una casa editrice prettamente cattolica, però, ecco, anche lì ho notato da parte appunto del comitato, della redazione, proprio questa apertura anche verso appunto i modi appunto di pensare e di praticare, che non sono strettamente cattolici, quindi anche del mondo orientale. Vivere e lavorare meglio, eh, questo è veramente un tema molto attuale, per certi versi anche molto sofferto in questo momento. Mai come oggi sentiamo la vita professionale come una parte importante di noi, una parte importante non solo su un piano ovviamente economico, perché comunque sia l'aspetto economico in qualche modo ci garantisce la sopravvivenza, perché insomma è di questo che abbiamo anche bisogno nella vita quotidiana, ma proprio come strumento di realizzazione, di poter fiorire come esseri umani, di poter sentire il lavoro come vera e propria missione, quindi come qualcosa che ci permette veramente di fiorire per quello che siamo, per la nostra natura. Io dico sempre, ciascuno di noi ha un suo progetto esistenziale, ecco che questo progetto esistenziale in qualche modo si declina, si declina nella quotidianità, nelle piccole cose, nell'avere o non avere una famiglia, nell'avere un certo tipo di lavoro piuttosto che in un altro. ecco credo che in questo momento più che mai questa carenza cronica di questo lavoro in qualche modo pone di fronte veramente a un ostacolo, a una difficoltà, a un bivio grosso ciascuno di noi, cioè ciascuno di noi è veramente chiamato a reinventarsi, cioè ad andare alla ricerca di se stesso, sentire se stesso, sentire chi siamo, che cosa la vita chiede da noi o Dio, qualcuno poi lo chiama a suo modo, esatto, e poi a quel punto veramente lasciarsi andare, andare fuori dai canoni, da quello che prescrive la società, eccetera, e trovare una via di espressione creativa, innovativa, dove cercare proprio di creare la propria passione, la propria nicchia, ed ecco che a quel punto veramente quando fluisce il proprio essere, ecco che poi anche l'aspetto economico e l'aspetto del servizio dell'altro, perché poi il lavoro è anche questo, ecco che a quel punto comincia a fluire. Si crea una nuova armonia sociale, sicuramente, sicuramente, ecco che in qualche modo quel famoso cambiamento sociale che mai come oggi tutti ospichiamo su un piano economico, su un piano politico, su un piano culturale, credo che prima di tutto e soprattutto passi attraverso un cambiamento interiore, cioè non possiamo aspettarci che la soluzione magica che arrivi da fuori, che il cambiamento arrivi da fuori. No, il cambiamento arriva da dentro, prima da dentro e poi fluisce all'esterno. Non possiamo stupirci e non possiamo arrabbiarci che abbiamo una società che non ci piace, perché quello è specchio di quello che siamo dentro. dice, è uno strumento prezioso che ci dice quello che siamo dentro, quello che effettivamente anche di noi non ci piace, perché quello che abbiamo è in fondo quello che anche nel piccolo abbiamo costruito noi, per cui da lì veramente c'è lo strumento, l'input importantissimo per imparare a lavorare su di noi e a dire benissimo, allora c'è qualcosa che non va fuori, benissimo, mi rimbocco le paniche e comincio a lavorare, comincio a lavorare prima di tutto su di me, nelle piccole cose, nella famiglia, nel condominio e poi allargo, e poi allargo, e poi allargo fino all'istituzione, fino a tutti i contesti dove ciascuno di noi può operare. Ecco, così credo, questa è la soluzione, questa è la strada. Bene, per chi fosse interessato a questo discorso puoi dare qualche contatto, qualche indirizzo, non so, sei su Facebook? Allora, su Facebook sicuramente mi si trova appunto come Anna Fata Senigallia, c'è il mio profilo, c'è il mio profilo su LinkedIn, ci sono i contatti sul nostro sito dell'associazione armoniabenessere.it, quindi le strade sono tante, ciascuno la sua, quella preferita. Grazie mille per questo prezioso contributo, auguriamo in bocca al lupo per questa attività molto impegnativa, direi. Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie mille per questa attività. Grazie mille per questa attività. Grazie mille per questa attività. Grazie mille per questa attività.